Da quando è partito il progetto I'mSafe, un'ottica particolare ha sempre avuto la condivisione. Appena nato, I'mSafe ha già implementato la condivisione della singola sede con altri utenti, prevedibilmente il consulente che condivide con l'azienda o viceversa, l'azienda che condivide con l'ente di formazione, l'azienda che condivide col medico competente. Quindi il primo step della condivisione era proprio condividere i dati di una sede per poter lavorare insieme. Nel corso degli ultimi anni invece abbiamo sviluppato delle nuove funzionalità chiamate I'mSafe Community. In questo caso si tratta di condivisione tra utenti non collegati da interessi professionali, appunto la condivisione di una sede, ma semplicemente accomunati da quello che è il lavoro che svolgiamo, ovvero la sicurezza e salute dei lavoratori. Il primo step dell'I'mSafe Community è stato dare la possibilità agli utenti di condividere quelli che sono dei loro contenuti specifici, le schede di valutazione dei rischi, le mansioni lavorative. Condivisione assolutamente gratuita, ma che ha permesso a tanti di potersi conoscere, potersi far conoscere e in qualche modo anche collaborare. La fase 2 dell'I'mSafe Community è iniziata un mesetto fa e prevede quella che noi abbiamo chiamato l'intelligenza artificiale. Attraverso l'analisi di quelli che sono i dati utilizzati da tutti gli altri utenti in aziende simili, I'mSafe consiglia all'utente quali schede, quali mansioni e non solo utilizzare in quella specifica sede in base al codice ATECO. Questa fase poi verrà estesa a tutti i contenuti, ma anche permetterà, una volta inserito un contenuto, di poter avere una visione di quelli che sono contenuti simili utilizzati da altri utenti che avevano usato quel contenuto. Immaginiamo ad esempio un utente che carica la scheda Tornio Parallelo e I'mSafe gli consiglierà altre schede che gli utenti hanno usato dopo aver utilizzato la scheda Tornio Parallelo. Ci sarà infine una fase 3 dell'I'mSafe Community che però non vi voglio preannunciare troppo.